Noi ricordiamo Isotelarai, un ragazzo di 22 anni che ebbe il coraggio di dire no al sorpruso e alla violenza dei caporali e che pagò con la vita, ma il suo nome diventò un simbolo di riscatto e rinascita, creando così un ponte tra Italia e Albania. Grazie a tutti.